Ben trovati da Nikos Chiodetto. Una zona di bassa pressione nel corso di martedì interesserà gran parte dell'Italia con fenomeni concentrati soprattutto sulle regioni meridionali, il clima qui ventoso e i mari molto mossi. Zona di bassa pressione che lentamente si sposterà verso la Grecia e i Balcani. Andiamo a dare la previsione quindi per martedì con instabilità concentrata soprattutto durante la mattinata sulle regioni centrali, anche le regioni meridionali tra mattinata e pomeriggio, rapidi, acquazioni e temporali con clima ventoso. Inizia invece a migliorare al nord, una bella giornata al nord-ovest, gli ultimi fenomeni mattinata sul nord-est, poi spazio a sprazzi d'azzurro, rasserenamenti anche sulle regioni nord-orientali. Per concludere la seconda parte di settimana perché proprio nel finire di settimana un campo di alta pressione abbraccerà dalla Spagna gran parte dell'Italia e prevediamo anche un rialzo termico. Tutti i dettagli precisi come sempre scaricando l'app di Trebi Meteo.